L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della popolazione mondiale e secondo le stime dell'OMS ogni anno muoiono nel mondo 250-500 mila persone. La stagione dell'influenza è ormai alle porte, per questo occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. È stato proprio questo il focus del 67esimo congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste e esisterà. Purtroppo o per fortuna con i dispositivi di protezione individuale abbiamo pensato che l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia, che ovviamente è anticipata rispetto a noi già da aprile, ci dimostrano come il picco influenzale è stato molto importante e quindi generalmente quando il picco influenzale è molto importante in Australia, altrettanto lo è appunto in Europa. Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di infezione, il rischio aumenta. E' proprio su questi pazienti che sono più a rischio di contrarre l'infezione e più a rischio, una volta contratta l'infezione, di avere degli eventi avversi, che devono vaccinarsi. In Italia l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva, preceduta solo da AIDS e tubercolosi. Ma quali vaccini raccomandati? Oggi il vaccino adiuvato quadrivalente rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte dosi ha un vantaggio in termini di protezione, sia rispetto all'infezione di per sé, sia rispetto alle complicanze. C'è poi una questione etica di diversità di trattamento per quella fetta di popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini standard. Che ci piaccia o no, la politica influenza le scelte sanitarie. Noi sappiamo che il vaccino sostanzialmente è distribuito a livello regionale, quindi è la regione che in qualche modo decide quale vaccino fare ai propri cittadini. Ma l'impegno etico è anche degli operatori sanitari. Noi sappiamo che oggi in Italia gli operatori sanitari si vaccinano, non voglio dire per nulla, ma poco, molto poco. L'impegno è trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione, è una vaccinazione efficace di livello, come abbiamo detto, nelle persone più a rischio, ma anche nelle persone che ci sono intorno, creare barriera. Come indicato dal Ministero, è importante quindi vaccinare gli over 65 e i fragili, categorie indicate come a maggior rischio di infezione e complicanze da influenza.